Salve, allora oggi ti saluto da una bellissima location dove c'è proprio il sole e mo ti mostro anche quanti gradi abbiamo, sembra incredibile no? Oggi è il 29 di novembre 2019, guarda 25 gradi, quindi non resta che ringraziare e riprogrammare la felicità ogni giorno con uno splendido sorriso.